Ecco 5 cose che devi assolutamente sapere prima di utilizzare qualsiasi piattaforma DeFi. Pena fare errori molto gravi che possono portare alla perdita dei tuoi fondi. Continua così il nostro corso dedicato ai principianti e a chi vuole rinfrescarsi la memoria su tutto ciò che c'è da sapere sulla DeFi con la seconda puntata. In questa seconda puntata andremo a trattare cose un po' più concrete ma sempre rimanendo nella teoria. La pratica arriverà tra non molto una volta che avremo capito veramente bene tutto ciò che c'è da sapere per muoverci con sicurezza. Non mi stancherò mai di dirlo, la sicurezza è ciò che conta prima di fare qualsiasi esperimento. Oggi in particolare parleremo di faremo un glossario sui termini più importanti della DeFi, inizieremo a costruirlo, parleremo di sicurezza e rischi dell'utilizzo della DeFi e come minimizzarli, parleremo di APY ed APR mettendoli a confronto e capendo che differenza c'è e come si calcola l'uno dall'altro e poi andremo a capire cosa un pelino più concrete come la Impermanent Loss spiegata bene e il Multi Chain e il discorso dei Bridge. Ci sarà tanto da vedere, vi lascio come al solito le slide scaricabili gratuitamente dal link che trovate in descrizione e insomma scusatemi se il video è un po' lungo ma preferisco parlare un po' di più e spiegarmi meglio rispetto al trascurare alcune cose che possono essere fondamentali. A tal proposito io vi chiedo come sempre di lasciare nei commenti i vostri feedback. È molto prezioso perché questo corso lo sto costruendo insieme a voi. Se scopro che avete necessità di conoscere qualcosa che magari io do per scontato a trascuro è proprio grazie ai commenti che mi lasciate e io lo faccio visto che comunque registro settimana dopo settimana queste puntate solo dopo aver letto i vostri feedback. Quindi per cortesia mi fate un grosso piacere se li lasciate nei commenti. Ora basta chiacchiere e tuffiamoci in queste cose fondamentali da sapere prima di iniziare a giocare con la DeFi. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quante. Vediamo ora una panoramica, un teaser di quello che vedremo oggi così da organizzare un po' le idee e capire che percorso stiamo facendo. Abbiamo introdotto nella prima puntata i concetti fondamentali della DeFi e adesso, ripeto, ci avviciniamo sempre di più al concreto e dalla pratica. Una prima cosa che ho voluto introdurre è un glossario su vostro suggerimento. Io sapete che ascolto molto i vostri feedback e vi incentivo sempre a darmeli. Quindi mi raccomando scrivete nei commenti ciò che vorreste veder trattato nelle prossime puntate, parole che non capite, se la difficoltà è troppo alta, tutto ciò che vi viene in mente che potrebbe migliorare questo prodotto. Commentate. Andiamo a imbastire quindi puntata dopo puntata un glossario un po' alla volta, contenente i termini che trattiamo nelle puntate in corso. Alla fine, sperando di raccimolare un bel numero di parole e concetti, magari faremo un file più organizzato o una pagina web, vedremo comunque, ve lo condividerò in maniera un po' più strutturata. Poi andiamo a confrontare APR ed APY, anche questo su vostro suggerimento. Io lo sottovalutavo sempre, ma oggi lo vediamo estremamente nel concreto. Poi sicurezza, tema fondamentale quando si utilizza la DeFi, quindi com'è meglio approcciare mobile o fisso, insomma tutte queste cose qua. Rischi sistemici e specifici dei protocolli DeFi e come minimizzarli. Quindi di fatto cosa stiamo rischiando quando andiamo a utilizzare qualche specifico protocollo? Lo vediamo. Impermanent loss, questa sconosciuta. Sembra che si annidi sempre dietro i pool, non capiamo mai quanto influenza i profitti, se impatta molto, impatta poco. Oggi lo vediamo. E infine la moltitudine di chain ed AP, quindi un parallelo, un confronto sulle varie chain che esistono e come muoversi tra di esse con un teaser della prossima puntata è che sarà proprio dedicata ai bridge, ai wallet e alle interfacce con le varie chain, quindi si inizia per l'appunto a impratichirsi un po'. Iniziamo subito con un glossario fino a qui, quindi le parole della puntata precedente, visto che non lo avevamo. Allora, questo vado un po' veloce, poi ve lo lascio chiaramente per la consultazione, avete anche il pdf di queste slide scaricabile gratuitamente. Abbiamo utilizzato alcuni termini come farmare, che significa di fatto dare liquidità ai protocolli per ricevere ricompense. Si può chiamare anche yield farming, farming, insomma tutto ciò che è affine al termine farmare. Significa proprio, ci si immagina come l'agricoltore che va a coltivare i suoi campi, l'innaffia con la liquidità, noi l'innaffiamo quando andiamo a dare liquidità e in cambio riceviamo le ricompense dai protocolli per aver dato liquidità. Questo processo è detto farming. Smart contract è un termine di base, perché tutta la DeFi è creata su smart contract. Uno smart contract è da vedere come l'unità funzionale di tutte le applicazioni decentralizzate. È un algoritmo, sono di fatto delle righe di codice, che sono scritte in un linguaggio specifico che può essere Solidity, Rust o tanti altri ed è caricato su blockchain. Qui ho messo blockchain Ethereum perché i primi smart contract sono nati su Ethereum. Una volta che uno smart contract è caricato su una blockchain diventa immodificabile, a meno che al suo interno non ci sia una funzione che se viene chiamata gli modifica qualcosa. Immaginatevi proprio un software che viene preso e caricato, uploadato sulla blockchain. Una volta che è lì, lì rimane e si comporta sempre esattamente come il codice gli dice. Riceve in input transazioni e dati, chiunque di noi può interagire con uno smart contract, di fatto ha un address, esattamente come il nostro wallet, e quando noi inviamo una transazione a quell'address, contenente dati, oppure Ether, oppure token, lui in base a quello che c'è scritto al suo interno li manipola e restituisce un output. Uno smart contract banale può essere quello di una ICO, uno scambio che riceve in ingresso Ether e restituisce un token in base al tasso di cambio scritto all'interno dello smart contract stesso. Complicando la situazione arriviamo alle DEP. Una DEP che sta per decentralized application è un insieme di smart contract, quindi tanti mattoncini messi insieme, gli smart contract, interagiscono tra loro, si compongono, si combinano ed eseguono funzioni più complesse. Ad esempio, uno smart contract fa lo scambio, un altro gestisce la liquidità, l'altro richiede il prezzo dall'esterno e tutti insieme fanno la DEP dell'exchange decentralizzato, che è una moltitudine di smart contract, chiaramente non solo questi tre, che fanno tante cose e tutti insieme collaborano per tenere in piedi quella DEP, con cui l'utente poi interagisce da una semplice interfaccia web. Lui deve sapere il meno possibile degli smart contract che ci sono dietro, altrimenti si complica la vita. IWM, Ethereum Virtual Machine, questo è un termine che, insomma, possiamo anche fregarcene, non è che ci cambia la vita sapere che esiste o sapere che cos'è, ma è la macchina virtuale che permette l'esecuzione degli smart contract, quindi è una macchina virtuale, un computer, immaginatevi, che si trova distribuito sulla chain e permette appunto alla blockchain di digerire quello che c'è scritto all'interno degli smart contract. e fare quelle operazioni che gli smart contract devono fare. È ciò che ne permette l'esecuzione. Liquidity mining, ecco questo spesso viene utilizzato come sinonimo di farming, di yield farming, ma di fatto il liquidity mining è un programma di incentivi che viene creato da un protocollo. Io creo il mio protocollo DeFi, ho bisogno di liquidità, senza la liquidità il mio protocollo muore ancora prima di nascere. Pertanto io creo un programma di liquidity mining con dei miei token, con un programma di incentivi da distribuire a chi utilizza il mio protocollo, a chi dà liquidità al mio protocollo. Quindi il protocollo crea il programma di liquidity mining, dall'altra parte chi c'è, chi vuole farmare per l'appunto. Poi abbiamo APY ed APR, questi sconosciuti, e allora conosciamoli meglio. Che differenza c'è tra APY ed APR? Allora, parte tutto da me, Degen Farmer, che non sono altro, che vado a fornire liquidità ad un protocollo. Questo protocollo, abbiamo capito, che dà la ricompensa di liquidity mining, ok? La ricompensa di liquidity mining, perché l'ho messa all'interno di un salvadanaio, del maialino? Perché di fatto il protocollo mi va ad accumulare questa ricompensa e poi sapete che bisogna riscattarla, no? Non è che ti arriva automaticamente in tasca, a meno di alcuni protocolli, magari come, che ne so, Anchor, dove si accumula automaticamente USDT, ma tendenzialmente, USDT, scusate, ma tendenzialmente io devo sempre andare a fare, a chiamare quella funzione di harvest, si chiama, che sarà una parola poi definita nel prossimo glossario. Fondamentalmente l'harvest è proprio quella funzione interna allo smart contract del liquidity mining, che dice, bene, io voglio quella, sblocca la ricompensa e dà la al mio wallet. Finché non chiamo l'harvest, è all'interno dello smart contract del liquidity mining. Comunque, semplificando, io do liquidità al protocollo, il protocollo continua in tempo reale a dare, ad accumularmi in ricompensa di liquidity mining in base alla struttura dell'incentivo e a quanta liquidità ho dato, io chiamo l'harvest, nel momento in cui chiamo l'harvest, me lo intasco. Cosa posso fare? Allora, posso seguire il percorso giallo, quindi intascare e basta, e lasciar lavorare la liquidità che c'è già, oppure seguire il percorso bianco, quindi chiamare l'harvest, andare a trasformare quella liquidità, perché sarà data in un token del protocollo stesso, in quello stesso token o coin che avevo dato in liquidità al protocollo, e quindi incrementare di fatto la liquidità che sto dando al protocollo. Questo si chiama compounding, perché io così facendo vado a prendere i guadagni, li vado a convertire in altre liquidità, do più liquidità al protocollo, quindi otterrò ancora più ricompensa, e questo si va a comporre sempre di più con un effetto esponenziale. APR significa sostanzialmente tenere soltanto la ricompensa senza aumentare la liquidità, APY prevede questo effetto compounding. Lo spieghiamo meglio in questa slide. APR sta per Annual Percentage Rate, mentre APY Annual Percentage Yield. La differenza è proprio il considerare o no l'interesse composto. Quindi con l'APR abbiamo la ricompensa non reinvestita, con l'APY ricompensa reinvestita periodicamente. Attenzione, perché la frequenza del compounding influenza l'APY. Chiaramente se avessi un compounding continuo ogni secondo massimizzerei l'APY, ma spesso non ha senso, perché se comunque io ho un APR del 20%, è sufficiente fare compounding una volta alla settimana o anche due per massimizzare comunque l'APY, che rimane maggiore dell'APR, però anche facendo compounding ogni secondo non avrai ulteriori benefici, solo ci impazzirei dietro. APR quindi è deposita e dimentica, e ogni tanto harvest, perché altrimenti le ricompense potrebbero rimanere lì, mentre APY abbiamo deposita, harvest periodico, swap, che vuol dire scambio, trasformazione, da token a liquidità, reinmetto in liquidità. Quindi, ritornando al nostro esempio di partenza, supponiamo di dare liquidità, che so che vi piacciono gli esempi concreti, a pancake swap, chi non l'ha mai usato, mente, e supponiamo di dare liquidità al pool cake BNB. Quindi noi diamo un po' di cake e un po' di BNB all'interno del protocollo. Guadagniamo cake, perché il liquidity mining è dato in cake, e quindi io posso scegliere se continuare a aspettare, che ne so, sei mesi e poi fare harvest, intascarmi cake e essere molto contento, oppure posso anche fare harvest ogni mese, intascarmi cake, ma tenermeli io, oppure venderli per USDT e tenerli liquidi, oppure ogni settimana, ogni mese, quando voglio fare harvest dei cake, trasformarli di nuovo in cake, in BNB in parte, e riaggiungerli alla liquidità nel pool. Così guadagnerò ancora più cake, perché la mia liquidità incrementa. Questa è la differenza tra APR ed APY. Qua in alto a destra vi lascio anche la formulina, ma tanto vi dico, non statevela a studiare, perché se voi andate su internet, c'è pieno di calcolatori che vi trasformano APY in APR, anche dicendo quante volte fai compounding e così via. Quindi non c'è ragione di stare a studiare la formula, ok? Sappiate soltanto che l'APY dipende dal tasso di interesse, APR, e da N, che è il numero di volte che si fa compounding. E spesso e volentieri, ripeto, aumentare N oltre un certo numero non ha molto senso. Ci sono delle piattaforme che lo fanno per noi. Si chiamano Autocompounder. Questi Autocompounder, come ad esempio Autofarm e Bifi Finance, diventano la nostra unica interfaccia. Quindi noi forniamo liquidità all'Autocompounder. L'Autocompounder cosa fa? Ci pensa lui a interagire col protocollo. In particolare, l'Autocompounder va a dare la liquidità per noi al protocollo. Va a ricevere la ricompensa sotto forma di liquidity mining e fa harvest, swap e compounding periodicamente con frequenza ottimizzata. Chiaramente si trattiene una fee per fare tutto questo, altrimenti non avrebbe senso di esistere se non ci guadagnasse neanche da lì, però tendenzialmente conviene perché a noi abbassa il lavoro attivo da fare e quindi lo sbattimento ecco e in cambio si trattiene una piccola fee e inoltre noi abbiamo l'APY anziché l'APR quindi è assolutamente un qualcosa di ottimizzato e fa tutto tramite smart contract. Autofarm e Bifi Finance sono due esempi, Pancake Swap e VVS Finance sono due esempi di protocollo invece al quale l'Autocompounder si appoggia. Quindi e adesso poi vedremo quando studieremo i singoli protocolli e come usarli, questa è solo una piccola panoramica, andremo a studiare l'Autocompounder e vedremo cosa fa passo dopo passo. però detto in maniera grossolana e appunto panoramica lui va a dare liquidità al protocollo e fa tutte le operazioni di Harvest Swap e Compounding per noi per andare a incrementare sempre di più la liquidità che dà al protocollo. Noi chiaramente qui lo accenno abbiamo due protocolli con cui interagiamo quindi lato sicurezza andiamo un attimino a esporci di più ma ripeto queste cose le approfondiremo a tempo debito. Per adesso andiamo avanti con la seconda cosa da sapere la sicurezza la sicurezza come si fa a massimizzarla? Allora io qui vi do alcune norme generiche e poi quando andiamo a utilizzare i singoli protocolli andremo a vedere meglio protocollo per protocollo però tendenzialmente cose delle good practices ecco da adottare sempre a prescindere sono pc meglio che smartphone io non so quanti di voi hanno provato a utilizzare la DeFi su smartphone c'è vero c'è Metamask c'è Trastwallet adesso arriva anche Phantom per Solana però la possibilità di fare errori aumenta esponenzialmente quindi io vi dico con tutta sincerità che conviene utilizzare un pc è più comodo più sicuro si riesce a vedere meglio quello che si sta facendo non si rischia di fare fat finger quindi di mettere degli zeri in più di fare dei click sbagliati insomma si ha tutto sotto controllo sullo schermo meglio il pc dello smartphone non a meno che proprio non ci sia necessità folle non usate la DeFi su smartphone meglio tra l'altro un pc dedicato e non Windows perché per ridurre l'esposizione ai malware avevamo fatto un video sulla sicurezza generica da mantenere quando si gestiscono le cripto al di là anche della DeFi e avevamo detto che il rischio maggiore è quello di contrarre virus e quindi per minimizzare questo rischio è meglio utilizzare un pc dedicato per fare solo operazioni cripto non aprire le mail non navigare non guardare film in streaming eccetera e meglio se non Windows perché Windows è statisticamente bersaglio di più attacchi malware e quindi questa è la ragione wallet le estensioni browser sono quelle che si utilizzano di più o meglio forse le uniche utilizzabili per interagire con la DeFi Metamask Phantom Terra Station eccetera io vi do un consiglio spassionato integratele con l'hardware wallet quindi create il wallet sul ledger e poi andate a importare l'account ledger su Metamask questo massimizza la sicurezza vi ho fatto un video dedicato a Metamask dove ho spiegato in 20 passamenù il mio spiegone solito insomma è noiosissimo tutte queste regole di sicurezza e il perché utilizzare un hardware wallet partire da lì e poi integrarlo con Metamask è meglio in sostanza il discorso è che creare un wallet quindi con seed e tutto da Metamask espone a maggiori rischi perché si fa tutto online e si ha in chiaro in alcuni momenti chiave privata o seed phrase facendo tutto da leggere invece si minimizza questo rischio di esposizione di dati sensibili quindi questo è il mio consiglio nel video su Metamask vi faccio anche vedere step by step come si fa phishing attenzione al phishing quindi non vi venga in mente di cercare su Google Pancake Swap e cliccare sul primo risultato perché se vengo a sapere che fate una cosa simile vi mangio il cuore perché? perché spesso i primi risultati sono sponsorizzati con Google da parte di Scammer che creano siti clone vi chiedono la seed phrase e poi vi fanno sparire tutto altro che DeFi e quindi mettete nei segnalibri nei preferiti Pancake Swap l'uffice il sito ufficiale controllatelo 900 volte poi mettetelo nei segnalibri e d'ora in poi accende accedete ce la posso fare sempre da lì guai a voi se cercate su Google una piattaforma DeFi non vi venga mai in mente e non vi venga neanche mai in mente di inserire la seed phrase da qualsiasi parte ok l'unico momento in cui dovete inserire la seed phrase è quando andate a ripristinare un vostro wallet perché l'avete perso perché vi è esploso ma altrimenti non dovete mai inserire la seed phrase da nessuna parte nessuna piattaforma DeFi ve la chiederà mai e se ve la sta chiedendo è uno scam e quindi vi fa sparire tutto quanto le informazioni date ora in particolare meglio il pc dedicato tutto quel discorso di sicurezza estrema vale chiaramente se si hanno capitali più alti perché se si vuole mettere 50 euro su PancakeSwap non è che ci vuole il pc dedicato con Linux sia il hardware wallet sia chiaro insomma dipende dal buon senso da quanto capitale si utilizza ma quando il capitale inizia a diventare importante mi raccomando la sicurezza non è mai troppa le nozioni specifiche le vedremo protocollo per protocollo quindi quelle che hanno a che fare col singolo appunto protocollo procediamo con i rischi allora rischi e sicurezza è diverso perché sicurezza sono norme generiche rischi invece sono rischi specifici della DeFi confrontando la Cefai quindi la finanza tradizionale modello centralizzato con la DeFi la differenza è che nella Cefai tradfi noi mettiamo liquidità in un intermediario che può essere un'azienda può essere una banca come può essere Celsius Network come può essere insomma qualunque piattaforma che si occupa per noi di fare cose landing rendite eccetera eccetera con la DeFi invece noi mettiamo liquidità in uno smart contract in una DEP ok ora che abbiamo capito cosa vuol dire in entrambi i casi ci sono rischi ok scordatevi che non esiste il rischio ma esiste quando metti soldi in banca se la banca fallisce se c'è il bank run se ci sono tutti quei rischi lì esiste con gli smart contract sono rischi di diverso tipo se con la TradFi abbiamo appunto fallimento della banca o fallimento dell'intermediario o insolvenza dell'intermediario con la DeFi abbiamo i rischi degli smart contract quindi bug exploit ovvero il codice è scritto male oppure c'è qualcuno super schillato che capisce che si può sfruttare quel codice per fare cose malevole lo può fare e può prosciugare i fondi quindi questo è un rischio che esiste in tutte le piattaforme ok mi raccomando non c'è una piattaforma a rischio zero non esiste tutto ciò che è online per definizione è vulnerabile ad attacchi di questo tipo ti arriva il super pro che ti trova il bug che neanche un team di 10 persone e 3 audit ha trovato ti va a prosciugare i fondi ok secondo rischio c'è un admin c'è una centralizzazione c'è qualcuno che governa la piattaforma c'è il cosiddetto rischio di rag pull rag pull significa che il creatore della piattaforma o il team che c'è dietro gli sviluppatori ti scammano ovvero fanno qualcosa qualche modifica allo smart contract se hanno privilegi di amministratore qualsiasi cosa finalizzata a fregarti i fondi in sostanza se il team è malevolo quindi ovviamente se un team non ha lo scopo di scammare non scamma se invece il team è di scammer scamma quindi ricordatevi molto bene chi c'è dietro le piattaforme perché se una persona vi scamma una volta vi scammerà sempre se invece ci sono dietro persone note nel panorama DeFi ci si può comportare di conseguenza ultimo rischio il collaterale è volatile per collaterale si intende ciò che viene depositato sulla piattaforma e magari viene utilizzato per prendere prestiti per contrarre debiti la liquidità della piattaforma è scarsa in questi casi aumenta il rischio di cosiddetto liquidity crunch che è la situazione per cui la liquidità diminuisce al punto tale che la piattaforma non è più funzionale e di insolvenza se il collaterale è talmente volatile magari la liquidazione non è fatta benissimo sulla piattaforma stessa per liquidazione si intende altra parola del glossario il poter chiudere forzatamente delle posizioni di debito quando diventano a rischio se succede così e magari questo debito cresce più del collaterale della piattaforma allora c'è il rischio di default c'è il rischio di fallimento della piattaforma stessa questo rischio aumenta con la volatilità del collaterale questi sono i rischi principali come si fa a minimizzarli ve l'ho detto il rischio zero non esiste scordatevelo scordatevi di trovare una piattaforma e dire boh sono sicuro al 100% no si può esserli al 99% ma non al 100% si può contenere il rischio in che modo prima cosa usando piattaforme con alcune caratteristiche specifiche come team noto ve l'ho detto altre piattaforme DeFi non lo so c'è il team di Curve dietro a una nuova piattaforma sono tranquillo c'è il team di un'altra piattaforma esotica che magari è fallita chiusa sono meno tranquillo ok longevità della piattaforma più a lungo è vissuta più liquidità c'è e meno probabilità di bug perché insomma è come se avessero avuto gli hacker davanti ai loro occhi la possibilità di andare a sottrarre denaro tanto denaro non l'hanno fatto il motivo è che non ci sono riusciti quindi di fatto c'è meno probabilità che ci si riesca anche in futuro più a lungo è durata questa fase di test chiamiamola liquidità elevata per motivi di liquidity crunch per motivi di longevità della piattaforma e minore quindi rischio di bug se la liquidità elevata la post in gioco era ancora più alta per gli hacker quindi ripeto solito discorso piattaforme non esotiche ci sono piattaforme sperimentali e speculative che hanno rischi intrinseci molto più alti molti dei quali magari ancora sconosciuti come le varie olympus dao e dintorni le nuove ecco la frontiera della defi ci sono rendimenti più alti ma rischi maggiori quindi vanno trattati come tali andiamo avanti con la quarta cosa ovvero la impermanent loss questa sconosciuta come funziona la impermanent loss allora la impermanent loss è una perdita confrontando che si ottiene quindi confrontando il rendimento di dare liquidità a un protocollo defi a un pool di liquidità o meglio quindi non parliamo di liquidità singola sotto forma di un solo asset ma devono esserci almeno due asset nello stesso pool in quel caso posso soffrire di impermanent loss l'impermanent loss è quantificata in percentuale rispetto all'holdare i due asset quindi esempio se do un pool se do liquidità a un pool bnb cake io avrò in futuro impermanent loss se succedono certe cose che vediamo tra poco rispetto a holdare 50% bnb e 50% cake ok questo perché l'impermanent loss con questo grafico è calcolata su un pool di liquidità 50-50 nei principali decks pancake swap vvs finance uniswap versione 2 insomma tutti i principali decks delle varie chain che hanno pool a due componenti sono 50-50 quando vai a dare liquidità devi darne metà in un asset e metà nell'altra la perdita rispetto a holdare gli asset alla stessa proporzione 50-50 la perdita si realizza ed è proporzionale alla volatilità dei due asset all'interno del pool tra loro cosa vuol dire vuol dire che se io vado a dare liquidità cake bnb e la coppia cake bnb fa più 30% perché bnb sta fermo e cake fa più 30% allora avrò impermanent loss che vado a quantificare su questo grafico spostandomi a destra al posto di 100% a 130% se cake perde il 30% allora mi sposto a sinistra meno 30% a 70% e questo vale anche se bnb pompa o dampa rispetto a cake questo è il discorso è la differenza tra il valore iniziale e il valore finale tra il momento in cui metto liquidità e il momento in cui la tolgo quelli sono gli unici due momenti che fanno fede quindi io metto liquidità sono al valore chiaramente 1 100% quando la tolgo ha fatto più 30 più 40 meno 20 meno 50 quello è il momento in cui andare a spostarmi sull'asse x del grafico per vedere poi a quanto ammonterà la impermanent loss come vedete l'impermanent loss è più cattiva più la perdita aumenta cioè più il la variazione è in negativo ma questo per ovvi motivi perché tendendo a zero immaginatevi il pool che arriva a zero avrete un'esposizione soltanto a quella coin che vale zero quindi una perdita totale quello è il caso estremo mentre col prezzo che aumenta 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 la perdita è più contenuta e come vedete con un 5 per o un 25% di impermanent loss quindi diventa anche forse più trascurabile il worst case scenario chiaramente è una perdita importante perché vi ricordo che dando liquidità in un pool siete esposti non solo alla impermanent loss ma anche ai due asset quindi cake bnb se dampano intanto vi dampa il valore del pool quindi voi avete metà cake e metà bnb vi ricordo quindi se dampano entrambi del 50% anche se avete zero impermanent loss perché sono dampati entrambi quindi la variazione tra loro è nulla voi comunque avete un bel meno 50% sulla fronte dovuta all'esposizione a questi due asset ok quindi è importante capirlo conta soltanto la variazione di prezzo tra il momento di immissione e di tolta di liquidità ok di immissione di estromissione della liquidità ciò che accade in mezzo non conta e si aggiunge chiaramente al cambio di valore del pool stesso quindi degli asset stessi l'impermanent loss lo ripeto è quantificata rispetto a holdare i singoli asset quindi è una perdita aggiuntiva rispetto all'andamento degli asset stessi anche questo è importante da pensare perché se pompa se cake e bnb fanno per 3 supponiamo io ho già un per 3 di partenza e se poi cake oltre a bnb fa un più 10% avrò un po' di impermanent loss su quel più 10% lì ok questo è un po' il discorso per calcolarla anche qua ci sono infiniti simulatori anche su coin market cap ce l'abbiamo e facciamo un attimino anche di riflessione su quando l'impermanent loss non c'è o è trascurabile allora impermanent loss sì quando ho piattaforme che prevedono il dare liquidità in un pool a due o più componenti perché esistono anche i pool tri crypto i pool di balancer i pool multi asset e come vedete qua nell'ultimo punto a sinistra nella colonna sì vi ho linkato anche un calcolatore per i pool multi componenti con anche percentuali variabili invece no con pool o liquidità monocomponente come il lending se io vado a dar liquidità suave non esiste impermanent loss perché non vado a dar liquidità in un pool io sto dando liquidità in un asset pool con asset diversi soffrono di impermanent loss esempio vbtc usdc etero vbtc cro vbtc tutto cake bnb tutto ciò mentre i pool di stable coin non soffrono di impermanent loss o comunque trascurabile chiaramente a meno che non c'è un caso di depeg estremo dove che ne so dai va a 0,8 e allora c'è il meno 20% o impermanent loss ma sono casi remoti quindi a meno di casi remoti a meno di incidenti di questo tipo che lì però i problemi sono più altri dell'impermanent loss mi sa i pool di stable coin usdc dai mimo usdt eccetera eccetera non soffrono impermanent loss allo stesso modo non soffrono impermanent loss i pool di asset equivalenti come i pool rem btc vbtc sol m sol è vero m sol un po' alla volta aumenta di valore però aumenta talmente lentamente talmente poco che si può trascurare l'impermanent loss a meno di orizzonti temporali lunghi anche in questo caso è ovvio se rem btc depegga brutalmente si ha impermanent loss ma si hanno anche problemi altrettanto gravi anzi forse di più su altri fronti infine non abbiamo impermanent loss su quei protocolli che la ripagano ad esempio bancor adesso non voglio spiegarvi bancor adesso magari lo spiegheremo in futuro nelle prossime puntate ma ci sono protocolli che ripagano l'impermanent loss poi ultimo punto esistono tante chain e tante dap e chiaramente c'è differenza guardate come è evoluto il panorama defi negli anni in un anno anzi pazzesco più ci penso e più sono esterefatto dall'evoluzione che c'è stata siamo passati dal monopolio di ethereum al monopolio ancora di ethereum ma con la partecipazione di altri protagonisti vedete il grafico di destra abbiamo altre chain la binance smart chain terra solana avalanche ce ne sono tante che comunque sono ognuna di esse vedete si sta conquistando una quota del mercato adesso ethereum è al 65% quindi poco più della metà e la tendenza è che continua a perdere terreno ma non perché ethereum fa schifo ma perché la defi cresce ethereum cresce e le altre chain crescono ancora di più perché c'è un ecosistema veramente variegato in particolare una differenza di base quindi alla radice è evm o non evm cosa vuol dire ci sono alcune chain che sono evm compatibili quindi puoi prendere le dap che ci sono su ethereum e spostarle lì con minimo sforzo altre sono non evm invece non c'entrano nulla con ethereum non c'è solidity non c'è l'address 0x non c'è metamask e così via le differenze principali sono che con evm abbiamo il nostro metamask gli address 0x solidity e l'interfaccia familiare che conosciamo se abbiamo già utilizzato pancake swap se abbiamo già utilizzato ave tutte quelle piattaforme lì insomma le non evm ognuna invece ha il suo la sua interfaccia ognuna insomma ha le sue di wallet di applicazioni per interagire con la chain stessa ci sono address diverse vari linguaggi di programmazione interfacce nuove magari c'è da fare passaggi diversi magari non insomma noi conosciamo con ethereum che quando andiamo a dar liquidità c'è da fare a prova e swap oppure a prova e dai liquidità tutti quei passaggi lì magari con altre chain ci sono passaggi differenti ecco c'è da fare un po' di abitudine c'è da farci un po' di abitudine la cosa più interessante e forse importante nel confronto multichain sono le fee come vedete io qua ho riportato degli ordini di grandezza di una transazione di una coin quindi non cioè ethereum 10 dollari ma non vuol dire che andare a fare uno swap su uniswap costa 10 dollari no trasferire ethereum da A a B costa 10 dollari ok quello è il il parametro che ho utilizzato altrimenti le fee sono molto più alte so che sono variabili quindi questo prendetelo con le pinze è solo per dare degli ordini di grandezza ogni chain ha delle sue fee specifiche arbitrum si aggira intorno ai 2-3 dollari adesso quindi ordine di grandezza un dollaro avalanche più o meno pure bsc phantom chronos terra stanno sul qualche decina di centesimi solana poligon cielo harmony erond sull'un centesimo e poco più poco meno insomma trascurabili e quindi ci sono differenze in questi termini differenze in termini di centralizzazione o decentralizzazione differenze in termini di infrastruttura di wallet di tanta tanta roba e per saltare da una chain all'altra non è che si fa una magia ma ci vogliono delle infrastrutture che si chiamano bridges questo è un incipit alla prossima puntata che tratterà proprio questo quindi i bridges come saltare da una chain all'altra come recuperare delle coin che abbiamo per sbaglio mandato a una chain errata differente e tutto ciò che bisogna sapere per operare sulla DeFi multi chain e inizieremo a masticare qualche bridge quindi andandolo a provare e utilizzare io spero che tutto ciò vi sia stato utile anche perché non ho più di voce ho parlato veramente un sacco spero di non avervi annoiato se avete delle domande dei dubbi ulteriori io vi chiedo sempre di condividerli nei commenti in questo modo potremo andare a costruire le prossime puntate anche basandoci su questi vi ringrazio di cuore dell'attenzione e ci vediamo giovedì prossimo alle 19 per la puntata numero 3 sui bridge e sul multi chain a presto